io vi ho accusati e voi non vi siete ribellati lo avete creduto possibile un delitto lo avete messo fra le cose probabili di tutti i giorni un assassino del bilancio di famiglia la stima la stima che ci mette a posto con la nostra coscienza che ci dà la possibilità di guardarci dentro e dire sì è così insomma quella stima che ci dà la fiducia scambievole la serenità la possibilità di guardarci negli occhi senza la stima si può arrivare al delitto e ci stavamo arrivando